Il dirigente Maria Francesca Mendola dell'Istituto Luigi Costanzo, siamo qui per la prima edizione della fiera dell'artigianato dell'agricoltura all'Istituto Agrario di Soveria. Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Benvenuti a Soveria e alla festa della nostra scuola che è insieme anche il cinquantesimo anniversario della fondazione della scuola dell'Istituto Agrario, quindi una ricorrenza e una festa vera per tutti, per tutti noi. La prima di una serie di eventi che si terranno in questo istituto? Allora, la fiera è un due giorni, quindi durerà per due giorni perché abbiamo dovuto ridurre i tempi e siamo alla fine dell'anno scolastico. Successivamente ci saranno delle giornate sportive che interesseranno anche gli altri plessi. È solo l'inizio, come ha detto lei, è la prima volta che rifacciamo la fiera che si faceva tanti anni fa e speriamo di continuare in questa tradizione. Grazie. Grazie.